Ciao ragazzi, bentornati! Ho fatto un video fighissimo, però non avevo spento l'autofocus della telecamera, quindi un po' sfocato, ma il contenuto è estremamente interessante, quindi lo lascio così com'è. Buona visione! Oggi parleremo di 10 cose che richiedono zero talento, che possono fare una grande differenza nella vostra vita da musicisti e nella vostra vita in generale. Mi chiamo Raffaele Saini, sono alla batteria da 24 anni, ho fatto tour in Europa, Stati Uniti, Giappone, Brasile ed ho suonato con tante band. Band sconosciute, band più conosciute e band molto conosciute. In questo video voglio parlarvi dei 10 trucchi, 10 segreti, visto che questa parola piace tanto su YouTube, per cambiare la vostra vita batteristica e la vostra vita musicale da subito. Per esempio che questa lista non l'ho fatta io, la lista si chiama 10 things that require zero talent ed è molto interessante perché si parla molto di talento, no? Ah, quel tipo ha talento, io non ce l'ho, io quindi non ho talento e non posso fare niente. Lasciate che vi dica una cosa, quando ero ragazzino io di gente con talento ne ho visto veramente tanta, io ho visto anche tanta gente che ha buttato il talento al cesso e ha tirato la catena. Apro una parentesi e la chiudo al volo. Vi consiglio questo libro. Un libro che mi fu consigliato da Thomas Lang e che mi ha cambiato veramente la vita e la percezione del talento. Ma veniamo a noi. 10 cose che potete fare per cambiare la vostra vita da subito. Iniziamo. Numero 1. Arrivare puntuali. Sembra la cosa più difficile del mondo per alcuni, ma è la base. Arrivare puntuali, arrivare puntuali alle prove, arrivare puntuali al concerto, arrivare puntuali per il soundcheck, arrivare puntuali. Ed è già qui che si fa la prima scrematura, perché molti di miei colleghi arrivano tardi alla prova o al concerto o al soundcheck, la volta prossima non è detto che ci siano. E potrei farvi una lista immensa delle volte in cui ho fatto tour perché qualcun altro si era comparato male con il management ed era sempre in ritardo. Numero 2. 2. Sforzarsi. Cercare di fare le cose e impegnarsi nel fare qualcosa. Anche questo richiede zero talento e fa ancora una volta una grossa differenza. Molto spesso le persone che non sono riuscite ad andare avanti, o meglio, a usare il loro talento o le loro capacità, a messo che il talento esista, è perché non si sforzano. 3. Impegnati. Hai le prove? Arriva preparato. Sforzati di fare le canzoni al meglio. Impegnati quando studi. Impegnati quando fai le prove. Impegnati quando fai il concerto. Impegnati. Questa è la seconda regola. E per impegnarsi, ragazzi, è richiesto zero talento. Numero 3. Being high energy. Essere una persona energetica, avere voglia di fare, essere una persona propositiva, una persona che arriva e fa la differenza. Anche qua, talento richiesto, zero. Cercate di avere energia, energia positiva, essere una persona che quando arriva rende l'ambiente migliore. Numero 4, che è simile alla 3, è avere un atteggiamento positivo. Potrei farvi una lista, anzi, potrei scrivere tipo un'enciclopedia con tutti i casini che abbiamo avuto in tour. Ma io sono una persona positiva. Ossia, male che vada, stiamo facendo un concerto, siamo qua insieme, male che vada, ci divertiamo. Un atteggiamento positivo. Nessuno vuole avere nella band una persona che sta costantemente a rompere i c***o. Ah, non va bene quello, l'acquistica è brutta, il seggiolino non funziona, la chitarra è troppo chitarra, il basso è troppo basso. Nessuno vuole quel tipo di persona. 5. Essere una persona appassionata, avere entusiasmo. Questa è la differenza. Uno che arriva e vuole fare le cose. Ragazzi, ci sono da preparare queste quattro canzoni. Sì, lo facciamo. Ci sono da fare questo, si fa, ed è questa che fa la differenza. Ok, una persona che ha voglia di fare, una persona appassionata. Cito il mio grande amico Federico, fonico, con cui ho lavorato nel tour dei Vision of Atlantis e Vexillum. Federico era uno che mi disse una delle frasi che mi ha colpito di più. A fine serata stavamo caricando e scaricando il furgone dopo il concerto. Anzi, stavamo caricando anche un rompimento di c***o doppio. E gli ho fatto una battuta. Federico, ma a te ti piace scaricare il furgone? E lui, no, a me scaricare il furgone mi fa c***o. Ma visto che questa cosa va fatta, tanto vale farla bene. E mi ha sorriso. Questa è la differenza. Sei è using good body language. Sorridere, stringere la mano, quindi essere gentile. Ok, se qualcuno sta in confidenza, un abbraccio. Sorriso non costa niente. E fa tanto la differenza. Così come una stretta di mano. Ok, potrei farvi la lista anche qua dei c***o che ho conosciuto, che si comportano in maniera allucinante. Fanno un tour e generalmente nel tour dopo non ci sono. E sono a casa a lamentarsi che, ah, quel tipo lì che è più scarso di me ha preso il lavoro. Semplice, amico mio. Nessuno ti vuole mezzo e c***o. Sette, being coachable. Ossia, essere una persona disposta a voler imparare. Se qualcuno ti insegna qualcosa, ascoltalo. Impara. Spesso e volentieri, questa fa la differenza tra uno che cresce costantemente e uno che è fermo. Non costa nulla, non richiede talento essere disposti ad ascoltare e imparare. Non richiede nessun talento. Otto, fare un po' di più del richiesto. Non tanto. Quel po' di più che fa la differenza tra uno che fa i compiti per casa e uno che si impegna. E questo lo stesso non richiede talento, solo voglia di fare. Nove, arrivare preparato. E questa veramente è uno dei segreti dei grandi batteristi. Arriva le prove o arriva ovunque preparato. Se tu sei bravissimo ma non sei preparato per le prove o per il concerto, non serve a niente. Cioè, anche questa cosa è da sfatare. Se preparati, arriva, fai i compiti a casa e arriva preparato. Anche qui, talento richiesto, zero. Però è una cosa che possono fare tutti. Dieci, avere una forte etica lavorativa. Cioè, se stai facendo un lavoro, fallo bene. Impegnati, cerca di dare il massimo. Molti ricordano ancora quando hanno fatto i primi tour, si lamentavano online. Ma perché hanno preso Raffaele e non hanno preso Tizio che è più tecnico, più bravo? Semplicemente la mia etica lavorativa era migliore della sua. E quando si parla di suonare con gli altri, si parla di lavorare insieme. Lavorare insieme. Se tu sei bravissimo ma non ti impegni, non te ne f***o del gruppo, rimarrai a casa. E questo è un mito da sfatare. Non basta essere bravi. E il talento vale zero se becchi una persona con meno talento ma che si impegna 40.000 volte più di te. Quindi questo vuole essere anche un messaggio positivo perché io non mi ritengo una persona con talento. Nessuno. Ho fatto oltre 25 tour europei, due tour in Giappone, Stati Uniti, ho girato il mondo. La musica è la mia vita, la batteria è la mia vita. Non ritengo di avere talento. Io sono solo una persona che si è impegnata e si impegna tutti i giorni e ogni giorno ha una forte etica lavorativa. Ed è una cosa che non richiede talento. Mi piace, lo faccio e soprattutto non voglio tornare a lavorare in magazzino. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Un po' diverso dagli argomenti soliti di YouTube per batteristi. Ma, ripeto, questo canale vuole essere un qualcosa di educativo. E più che altro faccio questi video pensando come se si facessero vedere a me quando avevo 18 anni. Quindi è un modo per dare dei messaggi positivi. Spero che qualcuno capisca e qualcuno prenda spunto e faccia qualcosa di utile con queste informazioni. Se il video ti è piaciuto un commento, un like, condividilo con un amico che è convinto che il talento sia tutto. Ma soprattutto attiva la campanella e ci vediamo presto. Ciao! Grazie! 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 Grazie!